Buonasera e ben ritrovati a questo nuovo aggiornamento meteo. Durante le festività pasquali ci attendono giornate con tempo buone. Dunque tra sabato e domenica avremo la situazione tra sole e nuvole ma senza piogge. Poi però lunedì arriverà una nuova perturbazione che farà sentire i suoi effetti soprattutto a partire dalla seconda metà della giornata. Le temperature massime saranno in aumento e decisamente fuori stagione. E adesso diamo insieme uno sguardo alla previsione per la giornata di sabato quando avremo prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso in gran parte del nostro territorio con qualche nube in più tra la Sardegna e la Sicilia. Nella giornata di domenica la situazione resterà ancora stabile ma vedremo qualche velatore di più soprattutto sui settori occidentali dell'Italia. Tutti i dettagli sulla app meteo.it Grazie a tutti.